Con l'entrata in vigore del Codice Rosso, sicuramente uno dei punti di forza è riuscire ad intervenire con una certa rapidità. Il comandante provinciale dei Carabinieri, Nicola Mirante, oggi ha diffuso dei dati relativi alla violenza di genere, dati relativi alle cinque stazioni dell'intera provincia. Raffrontando i periodi che vanno da gennaio a maggio per gli anni 2023-2024, è raddoppiato il numero di interventi, si è passati da 29 richieste di pronto intervento a 59, denunce a piede libero che sono passate da 42 a 49, in aumento anche gli arresti in flagranza da 12 a 22, aumentate le ordinanze di custodia cautelare da 18 a 24. Fortunatamente non si registrano casi sfociati nel femminicidio, ma bisogna fare sempre di più. In controtendenza si è registrato un solo caso di atti persecutori che vede l'uomo come parte vessata. Il colonnello Mirante, vista la delicatezza del tema, ha spiegato che si deve sensibilizzare e che si investe sempre di più anche sulla formazione del personale, perché l'ascolto delle vittime risulta di prioritaria importanza. La cosa più importante è sicuramente la rapidità con cui riusciamo a fornire una risposta alla richiesta di emergenza e di aiuto delle fasce deboli, perché il Codice Rosso abbraccia un po' tutte le fasce deboli. Per noi è stato veramente un momento di grande svolta che ci consente in brevissimo tempo di intervenire, di stare vicini e applicare quelle misure necessarie affinché la vittima non subisca più i soprusi tipici di queste vile aggressioni. Oggi ci tenevamo proprio a evidenziare questi dati perché non deve essere l'evento a richiamare l'attenzione, deve essere una cura quotidiana e un'attenzione quotidiana a quello che è il problema. Purtroppo i dati che possono essere sempre letti in duplice maniera, da un lato evidenziano un aumento esponenziale purtroppo degli interventi, degli arresti, delle denunce, dall'altro lato però potrebbero anche voler dire che c'è una maggiore convinzione, una maggiore fiducia in quella che è la nostra attività e quindi sono più portati a denunciare e a lamentare quelli che sono dei comportamenti terribili, quali quelli tipici del Codice Rosso. Grazie a tutti.